a bianco c'è questa fabbrica non sappiamo bene cos'è una fabbrica guarda bello o la torcia la torcia chissà cosa facevano vecchio carbo questa è una cosa che ricorda guarda che bella scala fatta a punta tutto abbandonato qua c'è anche un piano sopra quanta roba che c'è qua fegato manzo piedi manzo è tipo una macelleria punta di petto costicine di maiale punta di pollo infatti ci sono le macchine guarda qua le affettatrici ah si cazzo saranno falliti e andavamo soldi a sbaracare tutto ma le affettatrici è una banca di valore un'attività carne è un'attività carne questo? si guarda ma qua si vede nel 2011 2007 2007 no guarda le limina code e li trovi le cassa no era una macelleria proprio era un negozio vieni a vedere guarda questo è un bel cartellano vedi questi qua li ah si sai quello che fa tesori nascosti come si chiama? si li compra li questi e questi li limina code ticket si 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 aspetta qua dentro manco il refrigeratore era preparato cazzo 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 sei i nostri amici che ci sedono sanno scrivete nei commenti che cosa potrebbe essere questo e mettete anche un like esatto o un dislike no un like è meglio andiamo su si non hai paura che crolli questa? no guarda che è questa una qui mi sa che c'è niente mamma mia quanto guano mamma mia che merda di scagazzate via via non c'è niente però quella perché tu è bello guarda che grande però c'è un quintale di merda di piccione via 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 già questo è l'unico cane che non deve stare bene dentro là qua vedi è piaciuto anche questo vissuto è piaccatissimo già vediamo adesso il prossimo edificio è abbandonato guarda che bella queste scale ma perché fanno le scale con la punta? perché solo devono stare su un angolo ah non vediamo può essere un altro reparto frigo, veneta, refrigerazione sempre faceva parte di quella macelleria non so cosa vendevano roba sì, carni un forno per i polli questo è un forno per i polli anche qua anche qua c'è una palline di natale ha fatto la festa di natale è qua tutto abbandonato stivali guarda oh signor cos'è questo amo? è un tornio manuale se lo giungiamo a 5000 like Fede ti mostrerà come si usa un tornio manuale esatto cioè si prende questo si gira è ancora morbido quello con la regolazione è questo vai giù dai vai dai 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 che va giù non lo so dai che ci facciamo i boom di like no 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 è bloccato non lo so è bloccato è bloccato è proprio un'officina terra questa qua con la borsa bianco un sacco di attrezzi questo è abbandonato questo è un altro lustre pieno di vernici cassette di tutti i tipi in fondo, stai venendo su? è una porta di deposito, pazzesco come hanno messo le cassette là però, ma guardale, ma non ha senso, adesso faccio una foto sicuro, questo è l'ultimo capannone di questa azienda che è un misto tra, cosa potrebbe essere? c'è un po di tutto perché ma guardate che bella fesa, secondo me è ancora funzionante, è bloccato però c'è il fermo secondo me se si sblocca, ah qua si pesava la carne, vedi? si pesava la carne, macchina per tagliare, un sacco di... ma c'è le affettatrici? si, è la barra questa, lasciate tutte qua ma qua c'è ancora olio addirittura, chissà di che cos'è? è olio questo grasso di qualche bestia, gasprom non ci posso credere, devo fare la foto, devo fare la foto su gasprom esatto, qua, e qua gli davano da mangiare, e qua erano legate, legate su questi tubi qua è vero, si, se non me lo dicevi non mi sarei accorta, infatti sono tutte le ruote anche mezzi agricoli, pazzesco, questa è un'ulteriore casa abbandonata sempre nel tragitto, guarda che il pavimento non mi pare, però è basso, cioè si può andare, dai è basso, ma hai detto che vai giù? si, no, no, è buona, è buona, si deve stare attenti guarda, lasciato tutto qua così, 2012, ma che visione ha la gente qua? abbandona tutto, la cucina questa frontuario della vigilanza venatoria, venatoria è della caccia, no? oddio, allora questo qua 2012, ok, no, di scaglia non di pietra, eh, stalla, questo è un passaggio segreto, eh, questa è sotto scaglia, vieni qua, qua, sgitti di colombie, ma vai a cagare, ho preso una paura, mi sono cagato sotto, stalla, anche queste? guarda, la bevevano, mangiavano, la si agganciavi, vedi? si, povere mucchette, e dopo li mangiavano, e qua? e qua, amore, qua era chi, il guardiano che dall'alto guardava? questo, una partita di tennis, no, no, che cazzo è, scusa, sono quelli che giocano a tennis, sono a pagliavoglio, no, no, sono nei campi, per controllare, ma non ci posso credere, ma si, uno andava a salarsi su, veramente? si, si, e come facevi quello? andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, anche no, dai, no, no, non c'è niente qua sopra, ma sono tesori, sono segreti, sono segreti, ma erano di famiglia, di pulcini, eh, si, 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 blu, questa è la stanza blu, quando è stanza blu, è sempre un indice di un qualcosa, eh, in questo momento si metteva una salame, salame, qua, 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 anche qua ci appendevano qualcosa, eh, ma vedi che ci appendevano? iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale